Nicolà Mopà premiato ai Chuck D'Oro serie tv 2024 miglior protagonista pubblico under 30 che emozione si prova enorme sono contentissimo e ricolgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno votato e partecipato appunto a questi Chuck sono felicissimo e grazie 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 per questo meraviglioso premio un anno veramente intenso ben tre serie tv non avevamo spazio per inserirti che anno è stato siamo ancora a metà però qualche bilancino puoi tirarlo sì sì assolutamente ecco non mi rendo mai conto di quanto effettivamente ho la fortuna di partecipare poi dei bei progetti e appunto come dici quest'anno sono stati tre sono contentissimo di come sono andati spero che vadano sempre meglio però appunto come dici tu siamo a metà anno quindi non è ancora detto tutto c'è ancora da fare qualche incursione nel cinema lo scorso non l'hai fatta progetti futuri sì ma non dico niente riservatezza o cecchini che mi puntano l'armi contro quindi sì sì no però ho fatto qualcosa ti saluto chiedendoti un saluto ai lettori di Chuck che ti hanno votato certo allora lettori di Chuck grazie 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 vi mando un abbraccio enorme e un grandissimo saluto a presto ciao